Siamo con Pasquale Caporusso e Sara Cerullo che sono responsabili del McDonald's qui a Latina. Un evento che ha richiamato l'attenzione e l'interesse di tantissimi bambini che sono venuti qui a mangiare tra una partita e l'altra. Insomma, un'invasione di bambini, di dirigenti, possiamo dire che questo evento è riuscito nel migliore dei modi e voi soprattutto vi siete attrezzati molto bene per ospitare tutta questa gente. Sì, decisamente, ci siamo preparati in precedenza per accogliere queste famiglie che oggi hanno fatto questo torneo qui da finestra, infatti siamo molto contenti di questa cosa. Insomma, anche organizzare da parte vostra tutto questo tipo di assembramento di gente non è per nulla facile, possiamo dirlo Sara? Sì, siamo abituati a tutto questo qui, quindi è prassi per noi questa cosa.